In questo video tutorial andiamo a vedere come utilizzare i layout su iVeloce. I layout sono uno strumento principe in tutti i software di paginazione. Che cos'è un layout? Beh, è la disposizione delle immagini all'interno del proprio foglio di lavoro. Gli elementi da impaginare vengono posizionati in maniera rigorosa, pulita, rispettando geometrie e simmetriche che valorizzano l'estetica dell'impaginato. I software di impaginazione hanno di solito due modalità per impaginare i fogli. O si parte dalle foto e si applica un layout, o si parte da un layout e si applica le foto. A è veloce e predisposto per soddisfare entrambe le esigenze. Partiamo da quella che io prediligo, ovvero quella di raccontare l'evento in questione come un matrimonio attraverso le immagini. Quindi ricreare un storytelling e in questo caso prendo una sequenza di tre immagini che ci permettono di raccontare un momento particolare, ovvero quello della vestizione della sposa. E quindi vado, dopo aver inserito le immagini sul foglio di lavoro, a selezionare quale può essere il layout idoneo per raccontare questo trittico. Questo per esempio potrebbe essere uno di quelli disponibili, oppure questo. Questo è un panoramico che raggiunge anche gli estremi del foglio. Se partiamo da questo, la prima impressione è che ho immediatamente posizionato le foto e già dimensionate simmetricamente rispetto al foglio. Però devo andare a ritoccarlo in maniera tale da ricreare un po' degli effetti di distanza, che io prediligo per dare un piccolo respiro, e soprattutto uno storytelling per definicitare deve essere un racconto. Quindi partendo dal momento più significativo di sinistra, del ritrovo, arrivando fino al momento dell'aiuto della damigella, fino a uno zoom dettaglio, posso raccontare una storia. Quindi è importante anche la sequenza delle immagini da sinistra verso destra, quando si guarda e si sfoglia un album. Come detto è stato facilissimo impaginarli, posso anche sistemarli per avere anche un'inquadratura idonea. Posso anche, sempre facendo doppio clic su ogni singola immagine, aumentare lo zoom per valorizzare alcuni dettagli. Questo è un modo di impaginare velocissimo. Se però volessi partire da zero e quindi farvi vedere un'altra tecnica, posso partire al contrario dal layout. E se volessi utilizzare questo, potrei partendo dal layout, impostare il gruppo di foto che voglio impaginare e, al contrario di prima, trascinarle dentro per vederle già adattate alla mia impaginazione, compiendo le stesse azioni di prima, ovvero quelle di scambiarle di posizione per avere il risultato finale che desidero. Grazie.